Io adesso invece chiedo a Claudio qualcosa in più rispetto a una delle eccellenze di Galdus, che è il Centro per il Lavoro Easy. Quali servizi offre alle aziende? Poi so che è presente non solo a Milano, è un po' dappertutto in Lombardia. Sì, il Centro per il Lavoro Easy è la naturale conseguenza di quello che anche Stefano poco fa stava dicendo in termini di presentazione. Il nostro scopo è quello di aiutare le persone a trovare lavoro, ma anche le aziende a trovare le persone più adatte alle proprie esigenze. Quindi il nostro servizio, i nostri servizi che sono presenti certamente nella sede principale nella provincia di Milano, ma anche nella provincia di Lodia e di Cremona, aiutano le aziende a identificare i profili più adatti alle esigenze che manifestano sia per la parte produttiva ma anche per la parte amministrativa e gestionale. Quindi una gamma ampia di servizi che è finalizzata a identificare le persone più adatte in relazione alle esigenze che le aziende manifestano. Quindi un punto proprio di incontro importante. Quali sono i nuovi incentivi? Parliamo anche di questo per le imprese che sono previsti proprio dalla legge di stabilità. Ci sono effettivamente una serie di incentivi che nell'ultimo periodo sono stati messi a disposizione delle imprese che intendono assumere quindi le aziende che hanno davanti a loro una prospettiva di lavoro e quindi anche occupazionale positiva. Ci sono degli incentivi che quest'anno riguardano persone che hanno fino a 35 anni. Quindi in questo anno 2018 chi assume con un contratto a tutte le crescenti una persona che in precedenza non abbia avuto contratti a tempo indeterminato ha un incentivo per tre anni per ogni anno di 3.000 euro. Non sono direttamente versati all'azienda ma sono in termini di decontribuzione sui contributivi. Non voglio fare discorsi troppo complicati ma c'è un'interessante possibilità anche per persone per una fascia d'età i 34 anni che fino ad oggi non era mai stata considerata. È incredibile perché sono poi le persone che dovrebbero tenere in piedi il paese quella fascia di età lì. E poi ci sono una serie di incentivi anche per i giovani con la politica cosiddetta garanzia giovani che dà una serie di strumenti di agevolazione anche per chi stipula un contratto di apprendistato che già ha delle decontribuzioni significative a cui questi incentivi possono essere abbinati e aggiunti. Quindi in sostanza ci sono degli strumenti interessanti per le aziende che vogliano investire sul proprio futuro. Allora il mondo del lavoro il mercato è cambiato tantissimo negli ultimi dieci anni mi viene da dire così però è importante avervi in studio perché ci date anche come dire una mappa precisa di quello che richiede il mercato. Quali sono le figure più richieste al momento? Diciamo naturalmente noi abbiamo uno sguardo abbastanza 360 gradi poi in virtù anche della nostra esperienza formativa che è in ambiti specifici abbiamo una visione più chiara su alcuni territori. Certamente a Milano l'area della ristorazione, l'area dell'hotellerie, la famosa Oreca, cioè tutto ciò che riguarda anche l'accoglienza sta assumendo delle dimensioni di città internazionale e di un turismo non soltanto legato al flusso economico ma tutta la serie di eventi che hanno prodotto una serie di attività di presenza a Milano molto interessanti ha fatto sì che Milano sia una città attrattiva dal punto di vista turistico in maniera generale. E questo è certamente un ambito su cui c'è uno sviluppo esponenziale in questo momento. Noi abbiamo molte richieste anche nell'ambito amministrativo e abbiamo poi tutta una serie di, avendo anche delle collaborazioni con l'Unione Artigiani di Milano e di Lodi, quindi tutte le attività di ordine artigianale anche con specificità e peculiarità molto interessanti. Cerco in questo momento un corniciaio, ne parlavamo prima di entrare in studio, che però mi hanno spiegato che lo vogliono proprio con certe caratteristiche. Quindi a Milano oggi il mercato del lavoro è in movimento, ci sono possibilità. Bene, ci stai dando un'ottima notizia e torniamo a parlare fra poco di Galdus, ricordate il sito? www.galdus.it